Oggi la FIDAPA, ancora una volta, a distanza di pochi mesi, con quel vivo ricordo di un corteo che ha visto veramente Mazzara in piazza a urlare contro la violenza sulle donne. Oggi, ancora una volta, i nostri riflettori sono accesi sulla donna, però oggi siamo qui per parlare di un altro tipo di violenza, quella violenza che è difficile da riconoscere, quella violenza di cui purtroppo si parla ancora poco e per farlo, ed è proprio la violenza economica, quella che è più subdola ma molto devastante. E oggi siamo qui proprio per parlarne, e per questo la FIDAPA, che ama il lavoro di squadra, è qui con degli esperti, esperti per poter affrontare questa tematica, sia dal punto di vista psicologico, con la dottoressa Giussi Agueli, psicologa, presidente dell'associazione Palma Vite, con la dottoressa Angelica Iello, consulente finanziario di Banca Mediolanum, proprio per affrontare il tema dal punto di vista economico, e con la dottoressa Marilena Messina, avvocato del foro di Marsala, proprio per affrontarlo anche dal punto di vista legale. Ed è a loro, con piacere, che passo la parola. Grazie Paola. Sì, Paola ha detto bene, e ha fatto bene a ricordare proprio la data del 25 novembre, e comunque quella giornata in cui abbiamo celebrato quella ricorrenza con questo corteo, perché è stato proprio in quell'occasione che ci siamo un po' confrontate con Angelica Iello, che fa parte della FIDAPA, ci siamo confrontate proprio sull'opportunità di portare avanti dei percorsi nuovi, di affrontare delle tematiche che sono ancora poco conosciute, ma che è importante cominciare ad averne consapevolezza, perché se poi noi arriviamo a quelli che sono questi fenomeni odiosissimi dei femminicidi, è perché c'è tutta una parte precedente di comportamenti non riconosciuti, che sono sicuramente dei comportamenti di violenza in termini di condizionamento e manipolazione da parte del maschile nei confronti della donna, di una donna non libera di gestire in maniera autonoma, in questo caso, il proprio flusso economico, e quindi ci siamo dati quest'idea di iniziare un percorso con questo incontro oggi di sensibilizzazione e informazione sul tema, ma con l'obiettivo sicuramente più impegnativo ed ambizioso di organizzare anche dei salotti formativi sull'educazione finanziaria, proprio per rendere le donne libere e autonome nella propria gestione economica. Sì, parleremo proprio di educazione finanziaria come strumento di consapevolezza per tutte quelle donne che all'interno delle famiglie ancora non hanno in mano la situazione economico-finanziaria. Appunto per questo, insieme alla dottoressa Quelli, abbiamo deciso di creare questo incontro insieme alla FIDAPA, di cui sono vicepresidente, perché io con il mio lavoro, quello di consulente finanziario abilitato all'offerta fuorisede, entro nelle case delle persone, non svolgo il mio lavoro semplicemente all'interno di un istituto bancario, ma vado a casa delle persone. È lì che si viene a sapere come viene gestita l'economia familiare. È vero che dottrine giurisprudenza non sono ancora capaci di delineare in maniera netta e precisa quella che è la violenza economica. La si racchiude all'interno della così definita violenza di genere o intrafamiliare assistita. Gli strumenti ci sono, però quello che occorre è una maggiore consapevolezza e una maggiore autostima. La consapevolezza dell'indipendenza economica non lascia più terreno fertile alla violenza di genere. Mi chiamo Donatella Schiaroli, sono assessore di questa amministrazione a Mazzara del Vallo, sono qui in rappresentanza del nostro sindaco e dell'amministrazione di tutta per questa manifestazione che riconduce certamente alla festa dell'8 marzo nelle donne e che conferma la necessità ancora adesso nella nostra società che si sviluppi nell'ambito sia di genere donna ma comunque nell'ambito comunitario in genere una sensibilità nei confronti dell'indipendenza economica delle donne quale forza per poter far leva, per poter far sì che si venga a distaurare una vera e propria parità di genere.